bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di cura 93 siamo qui in compagnia di bebo dello zio bebo e ovviamente siamo vestiti veramente fashion canale si gilet nero con la camicia rosa e lui in abito per lavoro deve lavorare onestamente ragazzi perché noi lavoriamo onestamente e oggi andiamo a trovare un pochettino i nostri amici giustamente allora ragazzi oggi lasciamo la scelta al bebooks al bebooks per la macchina vediamo cosa sceglie il bebo oggi ci sono tante macchine ragazzi nel mio garage si possono scegliere sta optando per un classico per un classico itleriano ok scegliamo il classico itleriano ragazzi andiamo a trovare un pochettino di gente vai saliamo sopra la macchina ragazzi andiamo a cazzeggi oggi andiamo a uccidere un po di persone ragazzi quindi esatto facciamo la ronda ragazzi perché noi siamo dei veri poliziotti siamo siamo i siamo i giustizieri della della mattina questa volta dai non della notte togliamo la musica ragazzi che il copyright mi manda a fanculo tutto ma vabbè ah ragazzi il bebooks scegli tu la destinazione di chi andare a ammazzare per primo ho già beccato un livello 5 abbiamo beccato un livello 5 ragazzi possiamo subito andare eccoci qui allora ragazzi siccome i potenziamenti dell'auto cioè non ho i potenziamenti massimi dell'auto perché dobbiamo fare delle gare e soprattutto bisogna salire di rango per sbloccare tipo le armature ragazzi ok seguiamo la 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 e va gira ole abbiamo due prete abbiamo due prete ragazzi adesso andiamo a ucciderle dobbiamo cacciare ragazzi noi cacciamo su gta online stiamo arrivando ce n'è una in casa ah una in casa forse lo sai uh cazzo vai una in casa non stiamo beccando quella di casa andiamo questa macchina è super veloce ragazzi uh pezzo di merda gira così alla cazzo inseguiamo 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 siamo così arrivati ragazzi siamo nel getto uh siamo dietro l'hai visto lasciamolo tranquillo pronto mettiamoci qui dai ci mettiamo così è tipo colpo e si chiaccia uccidi vai 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 ammazzalo 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 porca puttana ti sei fatto shottare ha fatto vitaccia questo livello 5 non lo so ha lo scudo atomico come al classico di questi qua su gta online la connessione uh eccolo qui ancora e dai non mi fa la mira automatica no cazzo mi stava sparando a te dov'è la mia macchina è scomparsa c'è uno davanti bebo ma dai bebo c'è rinato dietro il tipo e ovviamente ragazzi dobbiamo scappare dalla polizia perché altrimenti qui ci inchiappettano dove è finita dove è finita la mia macchina bebo andiamo a prendere la macchina veloce ce l'abbiamo il tipo dietro bebo scappa 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 che ti vuole ammazzare aspetta che la faccio fuori io questa strana vai vai fallo fuori fallo fuori sta arrivando la polizia io ti tengo lontano la polizia non capisco perché non ho la mira automatica ora andiamo via andiamo a prenderci la mia andiamo a prendere la macchina arrivano arrivano vai 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 uno 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 sta arrivando no cazzo ma perché mi fa sparare a te e l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso un altro un altro un altro sugala stronzo sugala mi voleva investire l'ho ucciso cazzo 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 mi stanno spremendo mi stanno spremendo mi stanno spremendo tipo un limone mi hanno appena assedato mi hanno appena ucciso ragazzi mi hanno appena ucciso bebo è poi scomparsa la mia macchina non si sa dove me l'hanno sequestrata ci vuoi scommettere ce l'hanno lasciato a piedi si me l'hanno sequestrata sicuro uh ce l'ho uno a fianco ma cosa spari a bebo non si spara a bebo hai capito io ne ho una ferma uccidilo 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 ma dove è finita la mia macchina ma basta spararmi ma come fai un colpo di fucile a pompa no me l'hanno sequestrata devo andare a recuperarla ecco ragazzi cosa succede quando ci mischiamo con la polizia che ovviamente svolge ah sei tu bebo aspetta aspetta che chiamo la mia macchina hai stelline? eh una cazzo aspetta allora rimani qui un attimo se vedi la polizia arrivare vateni via puttana Eva non mi fa chiamare la macchina chiamo l'entity che dici? attento dietro corre l'ho ucciso l'ho ucciso? no l'ho appena ucciso ok dà 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 ragazzi bisogna andare bisogna oh le grande andiamo via ma sai che mi è arrivata la macchina sai che mi è arrivata la macchina ma perché mi ha chiamato la carbonizzare ma dai ma dove mi stai sparando? dove mi stanno sparando? vieni nella mia carbonizzare ah ok 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 sto arrivando sto arrivando da te ragazzi poliziotti che si mettono in mezzo al cazzo il vetro come cazzo hai spaccato il vetro? sto arrivando a prenderti bebo ovviamente ho tre stelle perché la polizia si mette sempre in mezzo ai coglioni noi siamo dell'FBI ma non sanno niente ragazzi lavoriamo sotto coperture io e bebo si oh cazzo stavo per prendere vieni no ti ho ucciso cazzo aspetta aspetta che ti aspetto qui non ci ho detto per fare più ma non c'è mi ha estirato dai polizia di merda ma muori testa di uovo e spara si arriva arriva sono arrivando a prenderti sono arrivando a prenderti vieni due dietro vieni bebo vieni 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 merda ti ammazzano poi ma dai ci sono i pompieri sono forti ero si sono forti non è colpa mia oh che cosa scappa 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 granatta c'è maledetta grande entr λa sto arrivando a tenere ragazzi facciamo scappare vieni 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 grande dai che ce ne scappiamo un certo ma che lo investiamo brutto stronzo cosa stai facendo grande scappa 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 è vero che ho le granate mi sono scordato tu in bicicletta cosa stai facendo non si pedala in questa città non si pedala ragazzi abbiamo dato una lezione l'fbi i due agenti segreti si scoprono mici suicidiali contro i criminali di questa città poi ovviamente il mio meccanico mi porta alla carbonizzare senza che io l'abbia chiesta questa specie di ferrari guarda qui cosa abbiamo un raduno di criminali ragazzi mamma si no 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 grande vai 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 ammazza quello con la pompa non spara non spara merda 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 dove scappi dove scappi che devi morire vai buca lì buca lì l'automezzo buca lì la pompa te la distruggiamo buca lì le gomme grande bucchiamoli le gomme così lo devastiamo ma è morto guarda così guarda attento che ne abbiamo vicino ne abbiamo uno dietro ammazza quello dietro ma non c'era lo vado bene ok nooo mo lo mandano antisportivo il tipo fermo fermo stai lanciando granate sto stronzo stai lanciando granate scappiamo 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 andiamo a cambiare macchina andiamo a cambiare macchina minchia abbiamo quattro stelle abbiamo quattro stelle vai a casa vai che cambiamo macchina che qua ci ammazzano devo anche andare a ritirare la macchina che ce l'ho che ce l'ho sequestrata ok ragazzi abbiamo abbiamo fatto fuori un po' di persone adesso ah ok sei dentro allora dobbiamo ragazzi chiamare le assicurazioni Morse Mutual e andare a recuperarci la nostra Z-Type o la macchina di Hitler come la chiamiamo noi 11.000 ovviamente perché la polizia si fai soldi in questo modo guarda ci prendiamo la città anche io ce l'ho entriamo un attimo dentro in macchina aspettiamo che finiscano e poi ripartiamo ovviamente ammazzando un altro po' di persone eccoci ragazzi siamo col secondo giro di ronda questa volta ci sono altri criminali vicino a casa mia e nessuno può uh cosa stai facendo brutto stronzo devi morire grande Bad Books cosa fai tu cosa stai facendo cosa stai facendo quello qui eh ragazzi Bad Books davanti a noi ce ne sono due devastiamoli devastiamoli ok ecco ah i mini ma cosa volete fare che abbiamo la città siamo dei ricconi brutti stronzi c'è quello vivo in piedi in piedi ma muori stronzo cosa stai facendo non ci devi uccidere siamo i più forti c'è uno che sta scappando sta provando a scappare no 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 tu non devi scappare brutto stronzo devi subire la punizione divina del cure del bebo abbiamo una macchina preparata ragazzi quindi è ora di bucarlo spara le gomme spara le gomme adesso lo devastiamo bravo zio non è che sia così a me scappi brutto stronzo cosa vuoi fare va scappando no tranquillo tranquillo l'ho distrutta ma non è successo niente la macchina sicuramente non era sua ma ti ha toccato qualcosa perfetto neanche a me l'atto antisportivo quindi stiamo tranquilli allora ragazzi oh un altro qui vengalo ammazziamo vengalo ammazziamo dai dai l'ho ferita l'ho ferita dov'è scappi stronzo ma dai non muore non c'è la granata no cristo no ma l'ho sparato 30 anni l'ho sparato anche in testa l'inzone e più l'ho ferita anch'io non ho capito perché l'ho sparato l'ho sparato nella gola ti dico solo questo ma dai di nuovo ha sequestrato il veicolo ma porca puttana non sono ricco ho solo 3 milioni in questo gioco vieni che seguiamo questo stronzo dobbiamo seguirlo a piedi che palle andiamo andiamo dai dai ragazzi ora pattugliamento pattugliamento a piedi ora oh no vuole rubarmi il veicolo ah sei già beccato le due stelline dai che rubiamo anche il mio veicolo va piuttosto oh mamma andiamo 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 che recuperiamo anche il veicolo va vai il viola il viola il cita eccolo qui la cita la scimmietta dai prendiamoci la macchina eh l'ho visto l'ho visto oh è qua in zona è qua in zona l'ho visto l'ho visto cazzo mi sta già mirando mi sta mirando mi sta mirando ti dico solo questo io non l'ho vedo sei fuori tu? non ci sono no no penso che sia dietro penso ok penso che sia dietro il palazzo è il nostro amico ah questo è il nostro amico ok chi cazzo è? è dentro a casa quello è dentro a casa vai via ah è Kree è Kree oh che cazzo vuoi polizia di merda fuori dai coglioni ecco il Kree che ci segue io non ho stellina non è stellina è bastard io ne ho due il Bebo eh sì il Bebo il Kree che ci segue ragazzi allora abbiamo il Kree abbiamo il Kree che ci segue vediamo un po' il mio compagno il Bebo è un discepo della Revolution Crew nonché 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 il mio braccio destro allora ragazzi andiamo a farci un giro livello 3 aspetta che cerco questo vai cerca 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 che lo andiamo a uccidere va livello 3 zio lo devastiamo lo devastiamo non ha neanche scudo non ha neanche giubbottanti proiettile e il Kree non ce la fa starci dietro ragazzi eccolo ok giriamo ovviamente la mia cita scarico triplo dietro ragazzi e anche da solo bene bene ecco l'andiamo a gli andiamo a spaccare il culo va facciamoli portare la voglia di giocare esatto esatto i bagoni ragazzi spero che voi ognuno di voi che ha visto il mio video su GTA quello del bug glitch comunque sia per farsi i soldi online spero che l'abbiate utilizzato prima che lo lo pacino il il bug altrimenti cioè mi raccomando non esagerate non esagerate magari però fatevi almeno io vi consiglio 5 milioni almeno così avete la possibilità di comprarvi qualsiasi macchina voi vogliate e ora sta per finire staremo si staremo stiamo per vedere una bella carcassa di di maiale eccola qui bam carcassina di uomo ragazzi allora che cazzo è bello minchia è troppo bella ammazzare gente ragazzi visto che lo fanno molte volte con noi è giusto che qualche volta noi ci riprendiamo la rivincita giustamente e poi la polizia gli agenti segreti cura e bebo stanno facendo il loro lavoro di ronda perfetto nel giorno che cazzo vuoi poliziai di merda non ho fatto niente sono ammazzato un uomo Hitler ha fatto il nostro prossimo obiettivo Hitler ha fatto stermi ma se a me ero un piccolino già con due stelline cazzo non ho fatto niente vai cercare un altro livello di base che lo ammazziamo lo denudiamo della sua virilità andiamo ragazzi andiamo 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 dai dai polizia vieni contro di noi cura ogni tanto la zona la devo aggiornare quindi magari ti fa riuscire il compor vai tra vai tra non preoccuparti il cli 99 se n'è andato un tipo ci sta seguendo no non c'ha neanche cagato un cazzo 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 si ci segue ci segue aspetta che ci penso io vai dai vastalo grande aspetta lo investiamo ah cazzo è giungo ucciso no vuolvo uccidere io andiamo a ammazzare l'altro si andiamo a farci un giretto andiamo a ammazzare questo così la nostra ronda finisce per oggi e faremo la prossima ronda o andremo a devastare gli altri ok ci sono scomparse anche le stelline ragazzi allora chi è andiamo a ucciderlo andiamo a ucciderlo ragazzi ma non male che c'è questa macchina che non sarà come l'entity la specie di coenings o come cazzo si chiama quella macchina però anche questa è una figata sembra una veneno una lamborghini veneno eccolo qui ragazzi in zona fermo fermo un cazzo si sta muovendo dove cazzo è è qui eccolo eccolo vai dai vastalo è sulla macchina devi stare attento e bucagli la gomma oh mi stanno sparando da dietro aspetta che mi avvicina aspetta che mi avvicina così non fai spodere la macchina ci ho tanto dai ma smette di guidare non addormentarti durante mentre stai guidando brutto stronzo guarda sta dormendo brutto stronzo aspetta un attimo devo prenderlo no è scomparsa la macchina è qui è qui è qui pronto vai vai seguilo seguilo no vai vai cosa stai facendo aspetta che lo vado lo ammazzo di colpi aspetta che lo vado a ammazzare bello è morto è morto no devo ammazzarlo brutto stronzo non farlo mai no ma perché scompare il corpo il sughetto guarda rimane il sughetto rimane alla versione Frank Mattano aspetta 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 che lo vado a inseguire aspetta che lo inseguo brutto stronzo vieni qui oh la polizia la polizia vieni qui che ti devo picchiare a sangue vieni qui che ti devo picchiare a sangue eh eh cosa stai facendo eh una cosa apri il negozio con le piccole poppa apri il negozio bene parola vai 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 scappa 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 vieni qui ammazziamo vieni qui ammazziamo questa stronza e poi il tuo giro di ronda finisce per oggi che altrimenti esageriamo ma ro mi chiama cosa vuoi vai 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 sali 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 andiamo ammazziamo il tipo negozio dove 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 vai 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 dai torniamo a casa ti mando ti mando il coso di casa ti mando le coordinate per la casetta ce ne andiamo a dormire per oggi porca puttana non mi fa mettere il segnale perchè c'è il tuo devi tornare indietro comunque vabbè segui tu il punto bianco tanto abitiamo nella sa casa vai tranquillo vai tranquillo andiamo a faccio gira a Grove Street a Grove Street dove c'è zio CJ bello sta lagando sta lagando che è una bellezza cazzo andiamo a casa va cosa ti faccio ti stai schiantando contro i muri è abbastanza sono fatti in carta persa però sono più dure del ferro diciamo ah ragazzi ci tocca un viaggetto per tornare verso casa dai dai triplo scarico questa città il vecchio appartamento di Michael vai 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 no ecco dove cazzo è qui t'entro qui t'entro fermo però bolla lo vedi brutto stronzo cosa stai facendo dove scapi brutto stronzo non hai diritto di vivere vai a casa vai a casa andiamocene a casa prima che ci ci ammazzino anche a noi ok non sanno che facciamo un lavoro sporco ma anche noi siamo agenti federali ragazzi anche noi siamo agenti federali ed eccoci di nuovo a casa spai guidare mi sa che ti tocca far guidare a me perché altrimenti non mi fa mettere la macchina in garage ti giuro che ti stai muovendo devi vederti quando vedrai il video zio ti accorgerai che sta lagando un casino vai entra che parcheggiamo la macchina allora buttiamoci dentro il garage oppa eccoci mettiamo la macchina dentro ragazzi e terminiamo il nostro giro di ronda ok perfetto staggredo cosa stai facendo c'è il collo ti stai addormentato ti sei lì dentro addormentato ok perfetto ragazzi abbiamo stai dormendo beh bella la macchina è scomparsa zio è scomparsa la macchina vabbè come l'ho detto dove sei scomparsa non ci sei più ah ecco come ci sono no ragazzi no non ho capito sono incastrato no perché c'è ma c'è la macchina davanti la vedi la macchina davanti si si ah ok ok sono uscito no questa è fanta no fanta faccio una foto faccio una foto c'è bisogno di fare la foto basta c'è il video guarda basta il video c'è allucinante vabbè piccoli bug crescono ragazzi comunque sia la cura 93 e bebo 92 tutto spero che ovviamente lui ghigna brutto stronzo tiè to to prenditi questo stronzo comunque sia la cura 93 e bebo 92 tutto spero che il video vi sia piaciuto speriamo di essere riusciti a intrattenervi con questo spettacolo con questa ronda pomeridiana diciamo più che altro pomeridiana e ovviamente ci sono le solite laggate in questo gioco strano ma vero e se avete la possibilità ragazzi vi lascio il mio social club cioè il mio social club la mia crew giù così possiamo giocare tutti insieme se vi fa piacere e niente ragazzi da cura 93 è tutto da bebo 92 è tutto ci vediamo alla prossima ciao raga grazie a tutti grazie a tutti